Bene, grazie per aver contattato e aver mostrato interesse alla nostra società. Noi siamo da oltre 15 anni oramai che ci occupiamo del mystery shopping e ci appassionano i progetti per migliorare le esperienze dei clienti, sia nei punti vendita, nel call center, negli alberghi, nelle banche, in generale in un'occasione in cui c'è un contatto tra l'azienda e i propri clienti. Tanti già nostri clienti hanno sperimentato l'utilità e i vantaggi del progetto di mystery shopping, miglioramento dei tassi di conversione, dei tassi di vendita, miglioramento della soddisfazione dei clienti, così come miglioramenti adeguamente agli standard aziendali, ma anche miglioramenti nelle propensioni all'upsell e al cross-selling. A questo noi affianchiamo dei progetti anche di training estremamente innovativi perché integriamo alcuni concetti, alcuni strumenti del mystery shopping all'interno dei percorsi di formazione rendendoli sempre più concreti e reali. Tutto questo sempre con in mente il successo dei nostri clienti. Dato che hai lasciato i tuoi contatti sul nostro sito, verrai a breve contattato per avere maggiori dettagli sulle tue necessità e poterti tarare e costruire un progetto e una quotazione esattamente sulle tue esigenze, sempre con il tuo successo in mente.